ogni gara cercare di vincerla come abbiamo fatto fino adesso poi si parla l'avete visto anche voi no siamo sempre spesso i volentieri in emergenza non abbiamo tanti ricambi ci sono tantissimi giocatori fuori diciamo i titolari di prima però tutte le volte che vado a pescare nelle seconde linee facciamo sempre delle grandi prestazioni e stiamo facendo dei risultati oggi per esempio scaloni garido hanno fatto una grossa prestazione un derby per quello che comporta il derby per la tensione anche per la condizione perché sono giocatori che giocano raramente e fare una prestazione di questo genere bisogna fare veramente direi i complimenti niente bisogna guardare avanti a me piace andare a fare i spenti adesso siamo terzi in classifica abbiamo squadre come il napoli come l'inter come l'udinese anche se oggi ha pareggiato ma sono squadre con pagini che hanno caratura tecnica importante ci sarà da lottare fino alla fine mi auguro di poter mantenere uno score così di risultati da qui alla fine del campionato mandarsi mancano 12 partite ci sono tanti punti ancora a disposizione ma non solo per la lazio ma anche per tutte le altre niente devo fare i complimenti alla squadra anche perché vincere due derby in un'annata non è certamente facile invece questa squadra veramente sorprendente un gruppo di ragazzi straordinari e sono particolarmente orgoglioso di guidare una compagine di questo genere evidentemente abbiamo una rosa veramente forte perché non si ottengono i risultati se non hai delle qualità non solo morali che sotto questo punto di vista non ho mai dubbi non ho mai avuto dubbi ma anche dal punto di vista caratteriale e anche tecnico senti mi sono arrabbiato anch'io in modo particolare ma anche il primo tempo mi ha avuto un paio di opportunità secondo tempo era da chiudere la gara abbiamo avuto anche così la fortuna di andare in vantaggio la roma in dieci uomini ed è chiaro che lì devi cercare di sfruttare questa superità numerica e quando ti capitano le occasioni la devi chiudere la partita perché poi gli ultimi cinque dieci minuti ci siamo rintanati nella nostra metà campo loro sono venuti avanti è stato un colpo di testa di totti e qualche occasione l'hanno avuto anche loro qualche penetrazione su queste zone laterali abbiamo sofferto oltre misura perché se si chiudeva la partita quelle due opportunità che abbiamo avuto secondo tempo anzi tre opportunità è chiaro che dovevamo chiudere la partita ecco sotto questo punto di vista bisogna rimproverare questi ragazzi perché puoi soffrire fino in fondo così in una partita di questo genere anche perché diciamo la roma ha dimostrato qualità ha dimostrato sicuramente anche voglia dopo l'uno a zero in dieci uomini ha giocato ha giocato a ottima intensità ci ha messo anche qualche volta in difficoltà però noi abbiamo mantenuto l'assetto tattico come avevamo preparato solo invece di andare a gredire in avanti ci siamo un po' rintanati nella nostra metà campo perché eravamo un vantaggio e questa è una cosa che una squadra come noi non deve fare perché se noi diamo campo la roma ti mette in difficoltà la roma ti mette in difficoltà grazie a tutti